ciao a tutti oggi vi voglio fare anch'io un video sugli ultimi acquisti che ho fatto lo fanno tutti ho detto perché no io ho comperato da una ragazza che è su facebook e si chiama fioldisa shop spero di averlo detto bene comunque dopo vi metto il link nel box in fondo è una ragazza gentilissima molto corretta e ve lo garantisco è brevissima io faccio l'ordine in due giorni mi arriva allora il primo ordine che ho fatto fatto due ordini da lei il primo ordine che ho fatto ho comprato questi washi tape e questo allora ho comprato questi due stampi che sono uno è della lillibet ed è questa bimba con l'inaffiditoio e questo è il codice poi questo invece è 15 moon white law ed è questo orsetto con il fiore e questo è il codice poi ho comprato alcuni washi tape perché mi piacciono molto e sono ho comprato questo che ci sono degli sposi poi questo che ci sono degli uccellini poi ho comprato questo ci sono delle bandierine che ci sono delle bandierine rosse poi questo che c'è uno steccato con dei fiori non so se si riesce a vedere bene poi questo che ci sono delle macchinine questo con le bandierine questo ci sono delle macchinine questo invece mi piace moltissimo c'è un gattino e c'è scritto hello e questo me l'ha regalato con l'ultimo acquisto che ho fatto è stata gentilissima e mi sono trovata anche questo bellissimo che questo qui si abbina molto allo shabby e questo è quello che ho comprato in primo acquisto oggi invece mi è arrivato l'altro e c'erano queste due cartelle da imbossi non posso far vedere il codice perché ieri sera mi aveva scritto che tutta la confezione non ci stava nella scatola le ha dovute dividere quindi non vi faccio vedere il codice ed ecco il questo qua che ha delle righe per scrivere questo l'ho preso per fare il journaling e poi qui invece ha delle scritte e dei numeri è molto carina poi ho preso delle sisli queste sono queste e questo è un cuore con dei fiori in mezzo questo taglia a cartoncino solo non taglia a spessori molto grossi poi ho preso un'altra e faccio vedere il codice il codice di questo è vedete 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 poi ho preso questi bordi mi piacciono molto sempre è sempre una sisli e questo è il codice e questo è il codice se lo vedete poi ho preso queste qui questo invece è una framlist con i tamponi con gli stampi vedete sono fiori con i relativi stampini e anche questo vi faccio vedere il codice eccolo qua per 65 32 07 poi ho preso due fustelle che tagliano sia cartone cartoncino anche stoffa e ho preso questo che fa un centrino che a me piace tantissimo e il codice è questo qua molto carino poi farò anche un video tutorial ci farò qualcosa e poi ho preso questo che è una fustella di Tmolz io amando lo shabby chic mi piacciono molto le fustelle di Tmolz e questo è l'angioletto col cuore vi faccio vedere anche di questo il codice e questo è tutto se avete qualche domanda o volete una dimostrazione me lo dite e io lo farò per ora è tutto vi saluto e alla prossima ciao ciao ciao